Sembrava uno scherzo, invece ora c'è la conferma ufficiale. Claudio Lotito vuole entrare in Alitalia. Il patron della Lazio ha depositato un'offerta riservata d'acquisto per la compagnia aerea, da oltre due anni, in amministrazione straordinaria. Lotito dovrà parlare ora con Ferrovie dello Stato, alla ricerca di un ultimo socio, che si aggiunga a Delta Airlines e al Ministero dell'Economia, nell'accordata che dovrebbe rilevare le attività di Alitalia attraverso una nuova società. Il governo italiano è impegnato da mesi nella ricerca di un partner interessato al restante 40%.